Vuoi riparare il tuo vecchio scooter? Rivolgiti all'Outlet della mobilità. Benvenuti all'Outlet della mobilità, il maggior assortimento di scooter nuovi, usati e rigenerati di tutte le marche presenti sul mercato italiano. Circa tre anni fa abbiamo iniziato questa avventura. Cerchiamo e selezioniamo per voi i migliori scooter usati da ricondizionare. Ma abbiamo trovato anche scooter nuovi, provenienti da fiere, stocche e liquidazioni. E questo ci permette di girare a voi, che ci seguite da tempo, le migliori opportunità di acquisto. E parlando di opportunità, direi di iniziare la nostra trasmissione subito con questo scooter, marca Kinko. Questo è uno scooter usato, rigenerato in tutte le sue parti meccaniche ed elettriche. Come potete vedere, ha delle dimensioni importanti, che lo rendono ideale soprattutto per le gite fuori porta. È dotato di un comodo sedile imbottito e girevole, completo di poggiatesta, display multifunzione, scocca robusta e specchietto retrovisore. Questo modello è capace di reggere fino a 180 kg di peso. Ogni scooter ha caratteristiche diverse, si differenziano per il loro optional, ma soprattutto per le dimensioni, per il peso che possono reggere e per la potenza. Dal più piccolo al più grande ne abbiamo di tutti i tipi, per soddisfare ogni vostra esigenza. Abbiamo molti più mobility scooter di quanti riuscirete a vederne quest'oggi, ma non ne abbiamo una scorta infinita, per cui vi suggerisco di segnarvi il numero in sovrimpressione e di cominciare a chiamare. Vi ricordo inoltre che tutti i nostri scooter sono venduti con garanzia di conformità. Autolite della mobilità vuol dire anche riparazione e ripristino di scooter di qualunque marca, con ritiro e riconsegna direttamente a domicilio. Se il vostro vecchio scooter comincia a perdere colpi, chiamateci. Riceverete un preventivo gratuito da parte di un nostro consulente. E se deciderete di affidare la riparazione ai nostri tecnici, ricordatevi che per il mese in corso, le spese per il ritiro del mezzo sono gratuite. Il mio scooter elettrico mi aveva lasciato a piedi. Ho contattato l'autolite della mobilità e in 448 me lo hanno rimesso a nuovo. Se avete notato che la batteria del vostro vecchio scooter non si carica più velocemente come un tempo, nonostante le regolari ricariche, chiamateci, ve la sostituiremo con una batteria nuova di zecca. L'autolite della mobilità ha batterie nuove di ogni tipo. A volte basta veramente poco per risistemare il vostro vecchio scooter. Anche per quanto riguarda le batterie, ormai mi rivolgo solamente a loro. Un altro esempio di quello che l'autolite della mobilità può offrirvi è questo splendido scooter colore argento. Questo arriva da una fiera, non si può parlare quindi di usato, ma è equiparabile al nuovo. E per il solo fatto di essere stato esposto in fiera ve lo possiamo proporre con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di vestino. Però fate in fretta a chiamare perché quest'oggi ne abbiamo soltanto tre. Questo modello, dotato del sistema che permette il recupero energetico in discesa, riesce a percorrere fino a 40 km in piena autonomia. Potete inoltre tenere sempre sotto controllo il livello di carica dal pratico display. Questo scooter, dai comandi molto intuitivi, ha gli indicatori di direzione e addirittura il clacson. E per regolare la velocità è sufficiente ruotare una semplice manopola. Naturalmente siamo riusciti ad ottenere anche scooter di dimensioni più compatte rispetto a quello che vi ho appena fatto vedere. Scooter a 3, 4 ruote del 2018, del 2017, anche del 2016, con sconti che vanno dal 50 al 70% rispetto al prezzo di listino. Tutti gli scooter sono forniti con manuali di istruzioni e garanzia di conformità. E non dimenticate che se avete un'invalidità certificata potrete usufruire dell'IV agevolata al 4%. Chiamate ora per fissare un appuntamento con il nostro incaricato, che vi permetterà di conoscere in tempo reale la disponibilità degli scooter rimasti ancora in magazzino, con questi incredibili sconti. Parlando di modelli compatti provenienti da Fiera, non possiamo non parlare di questo Gaio Magixan dell'anno scorso. È robusto ma leggero e può essere utilizzato tranquillamente sia a casa che fuori casa. E una caratteristica che l'ha reso un po' un best seller in questi anni è la possibilità di essere smontato e posizionato facilmente nel bagagliaio di qualunque automobile. È inoltre possibile ricaricarlo in modo indipendente rispetto all'intera struttura. Potrete quindi lasciare lo scooter nel vostro garage e portare in casa solamente il vano batterie, attaccare la spina a una normale presa di corrente e procedere alla ricarica. Possiamo offrirvi questo scooter Gaio proveniente da Fiera con uno sconto del 35% rispetto al prezzo di listino. Lo scooter elettrico Gaio negli anni si è sempre evoluto, pur mantenendo quelle che sono le sue caratteristiche essenziali, come la compattezza, la possibilità di essere smontato facilmente. Ed è per questo che noi ve lo proponiamo in tutte le sue versioni sempre con entusiasmo, come questo Gaio del 2017, che può essere vostro con uno sconto del 60% rispetto al prezzo di listino. Ogni volta che mi metto a camminare mi viene subito il fiatone. So che comunque devo farlo perché fa bene, però se devo andare un po' più lontano, se devo andare a fare la spesa o a fare altre commissioni, salgo sul mio scooter elettrico e mi sento subito tranquilla. I nostri mobility scooter ricondizionati non hanno nulla da invidiare a quelli nuovi, ma semplicemente a voi costano di meno. Sostituiamo le batterie e ripristiniamo le parti meccaniche, ve li portiamo direttamente a casa, completi di manuali di istruzioni e garanzie di conformità. Ma comprandoli usati o rigenerati potete averli a prezzi incredibili, con sconti che vanno dal 50% al 60% e per alcuni selezionati modelli, ancora magazzino, lo sconto arriva addirittura al 70%. Avevo contattato varie ditte e alla fine ho scelto l'outlet della mobilità perché per le mie esigenze mi andava bene uno scooter usato. L'ho pagato pochissimo e funziona che è una meraviglia. Abbiamo molti più mobility scooter di quanti riuscirete a vederne quest'oggi, ma non ne abbiamo una scorta infinita, per cui vi suggerisco di segnarvi il numero in sovrimpressione e di cominciare a chiamare. Vi ricordo inoltre che tutti i nostri scooter sono venduti con garanzia di conformità. Per guidare i nostri mobility scooter non è necessario avere la patente, questo perché sono estremamente facili da guidare. Basta infatti premere la leva per iniziare la marcia e rilasciarla invece per fermarsi. E per regolare la velocità basta ruotare la manopola presente sul cruscotto. Inoltre il vantaggio di avere uno scooter elettrico oggigiorno è che avrete accesso anche alle zone a traffico limitato della vostra città. E allora chiamateci per avere maggiori informazioni sullo scooter che più si adatta a voi, alle vostre esigenze e al vostro stile di vita. L'outlet della mobilità vi permette di acquistare un mobility scooter rigenerato a prezzi straordinari, ma vi consente anche di permutare il vostro vecchio scooter di qualunque marca. Un nostro consulente esperto verrà a casa vostra, lo visionerà e lo valuterà sull'acquisto di uno dei nostri magnifici scooter. Noi dell'outlet della mobilità siamo gli unici a permutare anche l'usato sull'usato. E se avete già un preventivo chiamateci comunque, siamo sicuri che vi faremo risparmiare ancora. Mettiamo a vostra disposizione i migliori marchi di scooter nuovi e usati presenti sul mercato italiano. Ho visto che hanno sempre delle offerte molto interessanti, sia sugli scooter usati che su quei nuovi. guidare un mobility scooter è divertente anche quando il tempo fuori non è bellissimo. E in quel caso potete contare su uno scooter cabinato Denver, che vi permetterà di ripararvi dalle correnti d'aria e dal freddo. Ma chiamate subito perché ne abbiamo uno stock di soli pochi pezzi. Denver è uno scooter dalle alte prestazioni, che vi permetterà di avere sempre un tetto sulla testa. Denver è forse l'unico scooter sul mercato italiano ad essere equipaggiato con il tergicristallo, che consente la massima visibilità in ogni situazione e con finestrini ad apertura a compasso. Ha inoltre il manubrio a delta, cambia due velocità, leva del freno supplementare e tasche interne portaoggetti. Ed ecco un altro stock di scooter nuovi. Vi parliamo di Moody, uno scooter che va sempre a rubo ogni volta che ve lo proponiamo. Oggi ne abbiamo ben sei pezzi, ma fate in fretta telefonare perché una volta esauriti non sapremo se e quando riusciremo a riproporveli nuovamente. Questo scooter elettrico ha dimensioni compatte ed è facilmente smontabile. È dotato di manubrio delta, display multifunzione, avvisatore acustico, ruote antiforatura e faro anteriore, che difficilmente si può trovare su altri modelli di queste dimensioni. Ve lo proponiamo con lo sconto del 35% e una garanzia di due anni. Negli anni siamo cresciuti grazie a voi che ci avete richiesto con sempre maggior interesse scooter usati e rigenerati. In alcuni momenti la vostra richiesta è stata talmente grande da costringerci a fermarci per un po'. Oggi torniamo e torniamo con una novità importante. Grazie a voi l'autorite della mobilità ha sviluppato un proprio modello, Diplo, lo scooter a due posti. Finalmente potrete andare in giro in compagnia e in più avendo un tetto sopra la testa e tanto spazio per i vostri oggetti, grazie al cestino anteriore e all'ancor più spazioso cestino posteriore. Pneumatici specifici per questo modello garantiscono la massima performance e comfort in ogni situazione. Oggi è venuto a trovarci il signor Giuliano, già nostro cliente, al quale abbiamo chiesto di provare in anteprima lo scooter Diplo. Signor Giuliano, come sei trovato a guidare Diplo, novità outlet? Mi è piaciuto tantissimo, è bello, è comodo per portare parecchia spesa e poi era da tempo che desideravo guidare in compagnia di mia mamma.